Il giro del mondo in 80 giorni. Paspartout perde le scarpe. Mentre lo scandalo dilagava in Inghilterra, il Mongolia navigava verso Bombay. Sul piroscafo la vita scorreva piacevolmente, si faceva musica e quando il Mar Rosso lo permetteva si ballava anche. Phyllis Fogg non mostrava alcun interesse per la vita di bordo, consumava regolarmente i suoi quattro pasti quotidiani senza che Rulli o Mare Grosso potessero disturbare la sua digestione e poi giocava a carte. Aveva infatti trovato a bordo dei compagni di gioco accanniti quanto lui con i quali faceva interminabili partite. Come il padrone anche Paspartout non soffriva il mal di mare e viaggiare in quel modo cominciava a piacergli. Il secondo giorno di navigazione Paspartout incontrò l'uomo che lo aveva aiutato a Suez. Mi sbaglio o siete proprio voi signore che mi avete fatto così gentilmente da guida a Suez? Infatti sono io. L'ispettore Fix si presentò al francese come agente di commercio e nei giorni successivi fece in modo di incontrare spesso Paspartout per scoprire quante più informazioni possibili sul signor Fogg. Dopo uno scalo per rifornirsi di carbone il Mongolia navigò veloce sul Mar delle Indie e nel primo pomeriggio del 20 ottobre giunse a Bombay. Il viaggio da Suez era durato solo 11 giorni. Phyllis Fogg poteva notare sul suo diario che aveva guadagnato due giorni. I passeggeri sbarcarono a Bombay alle 4 e 30 del pomeriggio. Il treno per Calcutta partiva alle 8 di sera. In tutta tranquillità Phyllis Fogg diede a Paspartout una lista di compere da fare e passò all'ufficio passaporti per il visto. Dopodiché andò direttamente alla stazione in attesa della partenza. Fix invece si precipitò alla polizia di Bombay dove sperava di trovare il mandato di cattura ma il mandato di cattura non era arrivato. L'ispettore si sforzò di far capire che Phyllis Fogg era il famoso ladro della banca d'Inghilterra ma il capo della polizia della città si rifiutò di arrestarlo. Erano faccende di Londra disse. La polizia locale non c'entrava nulla. Intanto Paspartout dopo aver fatto acquisti per il suo padrone se n'era andato in giro per le vie di Bombay. Le strade erano incredibilmente affollate quel giorno perché si celebrava una festa religiosa. Ovunque c'erano cerimonie e tante erano le processioni dove al suono di viola e tamburi si esibivano bellissime danzatrici velate. Paspartout ammirò ogni cosa occhi spalancati. Tutto era nuovo, insolito e sorprendente per lui. Si stava infine dirigendo alla stazione col suo pacco degli acquisti sotto braccio quando vide una splendida pagoda e gli venne voglia di visitarla. Purtroppo ignorava che in questi luoghi di culto ogni visitatore in segno di rispetto deve entrare scalzo. Paspartout entrò deciso per ammirare quella meraviglia. All'improvviso fu assalito da tre sacerdoti infuriati che gli strapparono le scarpe dai piedi e cominciarono a malmenarlo. Non fu difficile per Paspartout sfuggire ai tre sacerdoti ma nel farlo fu costretto a rinunciare alle scarpe. Il francese arrivò alla stazione appena in tempo senza cappello e a piedi scalzi. Per di più nello scontro aveva perso il pacco con gli acquisti. Dispiaciuto e abilito raccontò al padrone la sua brutta avventura. Phyllis Fogg ascoltò senza scomporsi. Mi auguro che non accada più, si limitò a dire, ed entrambi si affrettarono a salire sul treno che in tre giorni doveva portarli a Calcutta. Ma qualcun altro era a conoscenza dell'incidente di Paspartout e pensava addirittura di poterne trarre vantaggio. Nascosto dietro una colonna l'ispettore Fix aveva assistito alla scena nella pagoda e aveva avuto un'idea. Entrando con le scarpe ai piedi Paspartout aveva profanato il tempio e questo sarebbe bastato per ottenere finalmente l'intervento delle autorità locali.